Un giovane medico oggigiorno in Italia incontra diverse difficoltà. La prima è sicuramente il passaggio tra l'università e la specializzazione. Questo è ben noto perché i posti di specializzazione sono inferiori al numero di laureati che ci sono. Non solo, al termine della specializzazione spesso non c'è garantita una possibilità di lavoro tramite un concorso pubblico, la mobilità è un po' statica e anche la possibilità di muoversi dall'ospedale o di rimanere nell'ospedale in cui hai studiato e hai fatto ricerca a volte può essere difficile. Le soddisfazioni sono tantissime, sicuramente la sera si va a dormire stanchi e sicuramente tutti i medici grandi ti dicono perché hai fatto il medico, però in realtà il ritorno umano è importante e quotidianamente ti riempie il cuore di gioia e personalmente adoro la scienza, quindi comunque aggiornarsi, vedere ritrovati, poter far parte del progresso anche a livello scientifico che sembra talvolta essersi arrestato, in realtà è molto interessante.